Iniziata lo scorso 13 luglio, la raccolta dei soli rifiuti urbani indifferenziati fatta attraverso le modalità del porta a porta ha condotto Cantiano, entroterra della provincia di Pesaro Urbino, ad allinearsi agli altri 12 comuni su questo modello di raccolta proposta dall'ente gestore Marche Multiservizi e i lusinghieri. I risultati sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa organizzata in comune alla presenza dei tecnici di Marche Multiservizi, del Presidente e del Sindaco di questo piccolo borgo, il primo comune dell'Unione Montana che ha messo in atto questo servizio. Scomparsi dunque i contenitori stradali, 500 circa, ora ci sono bidoncini di dimensioni più ridotte che sono stati consegnati a ogni famiglia o condominio, ognuno dei quali è stato esposto per lo svuotamento nel giorno e orario predefiniti nelle immediate adiacenze dell'ingresso della propria abitazione sul suolo pubblico, mentre è rimasta invariata la modalità di raccolta di carta, vetro, plastica alluminio, umido, olio usato, pannolini, potature. Una nuova modalità di raccolta che rientra nella più ampia strategia di potenziamento in quantità e qualità della raccolta differenziata messa in campo dall'amministrazione comunale e da Marche Multiservizi, che oggi con soddisfazione hanno presentato i dati, dal 35% di inizio 2016, al 77,5% del mese di novembre. Tra i più soddisfatti e non poteva essere altrimenti, visto l'impegno e la serietà messa in campo, il Comune con il sindaco Alessandro Piccini in testa. Abbiamo intrapreso un percorso difficile, ci abbiamo creduto e d'oggi i dati però ci danno consolazione e soddisfazione rispetto al percorso intrapreso. È stata una nuova metodologia non invasiva che non ha stravolto le abitudini dei nostri cittadini, perché di fatto li ha lasciati nella possibilità e nella disponibilità di conferire i rifiuti quelli più fastidiosi come l'organico nelle isole ecologiche con le solite modalità e in qualche modo li ha forzati in modo non invasivo a far bene la differenziata, perché dalle nostre isole ecologiche in modo graduale sono stati tolti i contenitori dell'RSU adibiti alla tradizionale raccolta dell'indifferenziato, forzando la mano su una più capillare e metodica frazionamento della frazione indifferenziata. Oggi i risultati li abbiamo presentati, possiamo dire con soddisfazione che ci siamo assestati in modo ormai stabile sopra il 75%, quindi ben al di sopra di quell'obiettivo di legge che è il 65% e consentitemi quindi di ringraziare in primis i cittadini di Cantiano che ci hanno creduto e ci hanno supportato in modo corretto, etico e moralmente giusto come cittadini attivi all'interno della propria comunità in questo percorso. Ringrazio gli operatori di Marche di Multiservizi che ci hanno assistito e ci hanno supportato in tutte le fasi iniziali e non ultimi i nostri operatori territoriali che costantemente hanno avuto e tenuto il rapporto con i cittadini, i nostri uffici comunali che ci hanno supportato e hanno creduto con noi stessi in queste progettualità. Cantiano è un comune virtuoso dall'anno scorso e finalmente lo è anche dal punto di vista della raccolta e del trattamento dei rifiuti, quindi un grazie a un lavoro di squadra che porta Cantiano a livello di civiltà e di maturità superiori rispetto a quello di un anno fa. Per meglio informare i cittadini sulla nuova modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati, amministrazione comunale e tecnici di Marche Multiservizi hanno effettuato incontri pubblici per spiegare alla cittadinanza come funzionava il servizio e perché era importante arrivare ad una quota significativa di raccolta differenziata. Un lavoro che alla lunga ha pagato, grazie proprio all'apporto dei cittadini di Cantiano, anche di quelli che sono transitati solo d'estate, che hanno compreso la validità del progetto. Una sperimentazione che oggi è una realtà e che consente a questo territorio di passare da Fanalino di Coda ad esempio eccellente, di avere una città più bella, più pulita, più decorosa. Una progettualità che ci viene spiegata da Davide Mosciatti del coordinamento territoriale per la raccolta differenziata e da Alberto Collari, responsabile pianificazione di Marche Multiservizi. Abbiamo riorganizzato qui a Cantiano la raccolta differenziata dei rifiuti sostanzialmente eliminando tutti i cassonetti stradali del secco indifferenziato e portando questo sistema a domiciliare. Ogni famiglia ha ricevuto un piccolo bidoncino da 40 litri dove smaltire tutto ciò che non era possibile riciclare. Fermo restando che la raccolta differenziata per le varie frazioni principali carta, plastica, vetro e organico è rimasta invece a livello stradale ed è stata incrementata sia come volumetria disponibile per le famiglie e per le attività commerciali ma anche abbiamo resa più capillare realizzando ex nuovo delle batterie, delle cosiddette isole ecologiche che ha consentito di incrementare notevolmente il materiale da avviare appunto a recupero con risultati veramente soddisfacenti. Perché per Marche Multiservizi questo è un modo o è il modo ideale? Noi riteniamo che questo modello sia vincente in quanto non va a stravolgere le abitudini consolidate ormai nel tempo della raccolta cosiddetta di prossimità cioè con i cassonetti posti a livello stradale dove ogni utenza ha la possibilità di conferire i propri rifiuti quando lo ritiene opportuno, quando ne ha necessità, quando ne ha tempo e questo ovviamente facilita molto l'incremento della differenziata ma nel contempo per quanto riguarda il secco da smaltire la parte residuale dei rifiuti che vengono poi conferiti in discarica abbiamo appunto consegnato questo bidoncino che in qualche modo agevola in maniera oserei dire forzosa appunto il recupero degli altri materiali perché poi questo rifiuto che è indifferenziato che teniamo a casa appunto per una settimana viene prelevato appunto settimanalmente quindi costringe diciamo così maggiormente i cittadini a differenziare tutto ciò che può essere avviato al recupero e come dicevo svincolando l'orario di conferimento perché i cassonetti sono a livello stradale. In una regione virtuosa, terza in Italia per il riciclo, il comune di Cantiano si contraddistingue dunque per percentuali ben al di sopra della media regionale, merito della qualità del progetto, ha sottolineato nel suo intervento il presidente di Marche Multiservizi Massimo Galuzzi con un grande riconoscimento però all'amministrazione comunale e che ha visto protagonisti assoluti i cittadini di Cantiano. Sì direi proprio di sì, quella è la questione principale insomma e qui lo si è dimostrato anche dai risultati che nel giro di poco tempo, 3-4 mesi di esperienza si sono ottenuti. La collaborazione fra il comune che l'istituzione principale, la volontà dei cittadini è in prescindibile naturalmente e l'azienda in questo caso noi come Marche Multiservizi che siamo il gestore è la leva principale per ottenere buoni risultati. Tra l'altro l'esempio di Cantiano dimostra che questo modello Marche Multiservizi lo adatta un po' per quanto possibile alla comunità, al territorio. Certo, questa che lei dice è la questione fondamentale nel senso che qualche ritardo diciamo così, qualche percentuale in meno di raccolta differenziata, deriva dal fatto proprio della conformazione di questi territori. Marche Multiservizi gestisce 40 comuni nella provincia di Pesaro Urbino, al di là di Pesaro e insomma di alcune altre realtà, la stragrande parte dei comuni fa riferimento all'aria interna, sono piccoli sì comuni, fatti di frazioni, di nuclei abitati, di case sparse, il territorio è vastissimo, morfologicamente complicatissimo e quindi è evidente che c'è una maggiore difficoltà a organizzare il servizio. Però la strada è quella di estendere il più possibile a tutti i comuni che gestiamo questo meccanismo tenendo conto del fatto che Marche Multiservizi, questo teniamo a dirlo, fa anche una delle poche aziende, credo due o tre aziende in tutta Italia, a fare il report specifico, preciso sulla finalità della raccolta differenziata e cioè sul recupero, riuso, riciclo vero della percentuale di raccolta differenziata. Su questo siamo già al di là degli obiettivi che la comunità europea dà per il 2020, la comunità europea dice per il 2020 dobbiamo essere al 50% di riciclo o riuso, noi ci siamo già perché abbiamo già superato questo obiettivo, questo non vuole dire, vuole dire che dobbiamo continuare a migliorare ancora nel modo con cui stiamo facendo.